Ho deciso di candidarmi per il centrodestra guidando un movimento di opinione che non è una lista civica ma è un movimento di opinione che raccordi, rifondi il centrodestra a partire dal PDL, Forza Italia, Lega, Udc. Rocco Bordin rompe gli indugi perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Lui ci sarà, si sente leader e spera che il PDL non imponga un candidato gli ultimi 40 giorni come è successo in passato. Non vogliamo vedere i soliti film dove candidati calati dall'alto, inventati all'ultimo secondo, perdono a Padova e lasciano Padova in mano a questa sinistra amministrata da una classe dirigente vecchia. Bordin propone le primarie se non dovesse essere ascoltato pronto a trasformare il suo movimento d'opinione in una vera e propria civica. Deve essere votato, voluto dalla gente. Se questo non è possibile perché il partito è sull'orlo di una divisione, ripeto io mi auguro di no. O non ce la fa nei tempi, oggi è il momento giusto per cominciare. Io mi propongo al mio partito ma a tutto il centrodestra con un progetto aperto. Oltre a lei non vede altri leader quindi in questo momento? Ma altri leader nel centrodestra, per l'amore del cielo, i giornali di qualcuno hanno parlato ma non mi risulta che fino ad ora si siano candidati, anzi pare che non siano interessati.